Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale Spazio Gaming. È da un po' che non mi faccio vedere con i gameplay e i giochi, perché purtroppo c'ho una collezione internet in merda e ci metterò tre anni per caricare un video, quindi mi ero scocciato. So che il gioco è iniziato di 10, un po' scopo ritardato, sono riuscito a ribeccarlo e voglio portarlo, quindi posso promettere che porterò interamente il gioco. Ora non so se concentrarmi principalmente sulla storia, vi faccio vedere solo la storia oppure qualche altra cosetta, però per l'inizio almeno come funziona il tutto si. L'audio della sigla la metterò in silenzio perché sicuramente ci saranno il copyright, quindi per non essere bloccati i video, quindi metterò una base e vediamo come questo gioco. ok, bella sigla. Ok, bella sigla. Ok, una nuova partita. di costa normale. Azione no. e olio. ok, ok, adesso ci spiega un'altra parte. della storia. Un regno con tante risorse conquistato da un altro regno per prendersi quelle risorse. sempre la solita storia. Zuggles. Le stesse sconvitti proprio durante una notte sola riuscivano a capire come difesa. quindi abbiamo capito che ci stanno già cinque boss. e ora, oggi, Orbus Calaglia, uno dei cinque regni di Renan. è regolato dal tyrant Balsam, lord del corso di Firemaster. ed è regolato dal giust strategy. Bioc ушi estremolati. Questi 세zioni per i pazienti. Erranno spiagano per i capelli e i riusci. è nobile a di si trovare la giusta oppresenta. puri gli scopi. gli scopi di Danone. giorno dopo giorno, si rispetto al giorno, sotto la imprensione della dei soldi di Renan. Immagino che sia la morte. Grazie a tutti. Che tete spostasso, bambi? Che tete spostasso? 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 Che tete spostasso, io credo. ma perfetto tocca a noi praticamente prima ti dice ma io ho rischiato la mia vita per te ma non ti preoccupare fa vedere questa maschera però ah quindi non sento l'ora ma non potete sentire ma questo non significa che non potete non potete sentire come tutti gli altri se non sei più oltre tu sarai morti senza ne pensi uno di questi giorni ho visto un altro slave morire oggi più corpi di più che mi piace non è infortunatamente non è solo una rara vista in queste parti dannons sempre morono e i renons solo guardano quanto tempo può continuare Me ne stanno aspettando a te. Infatti, devi farti ammazzare. Un po', ho la maschera davanti. Eh, giusto. Che puoi fare durante il tempo libero? Vai al cinema. Sì, se ci rombo da... Ah, ecco. Ecco la mappa. Le mappe fanno sboccacare, quelle di Alice of. Vediamo che dice. Questa è una cosa per terra. Ah, ecco. Non si muovono. Marchiati. Questa è andata. Che poi dice questo? Non posso manco sostare ad ascoltare il mio amico parlare. Quindi lavoriamo senza senso. Ah, andiamo a riposare. Certo. Questa è la scorsa. L'acrari. Questa è la invece del giro. Guarda. Guarda è challengede. Guarda. 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 Grazie a tutti. Praticamente gli fanno fare dei lavori inutili, così, giusto per dire che lavorano. Che carine le animazioni. Questi sicuramente faranno un cartone anime. Allora ce l'hanno, un gruppo rivoluzionario. Cercano qualcuno? Oh, questa è Athena. State vedendo i Cavaliari dello Zodiaco? È Athena. No! Ok, non è Athena. Non farebbe mai del male a un essere vivo con la donna. E' scattato? No, vedi? Mo' si fa il codino, quindi non è più lì. E questo è il ringraziamento per l'aver salvato. Scappa. Sputtati! Sputtati! The girls know where to be found. This hurts. Hey, Impenage! Did you find anything? Not yet, sir. What do they expect from us on such short notice? This hurts. Eh, se te lo glie. Magari non ti fai sgamare. It's just a lot of trouble, you know. We can do this the easy way, or not. come fa ad andare così veloce se è spostato a mano e poi quelli lo spostano gli altri fanno finta ah no no dai lo muove solo uno un ragazzino smingallato dai che magari gli spaccano la maschera no arrivano i rinforzi praticamente all'inizio non facciamo una mazza questo è un bellissimo non la toccare non ha capito che non la deve toccare a quella ci salta beh adesso hanno trovato una cosa veramente importante da costruire cioè un ponte che hanno distrutto oh ecco il primo boss fight che dovremmo affrontare balsas balsas shion quindi shion sarebbe la tizia che non puoi toccare questo che beve da una ciotola del cane che Posso dire una ratta quando sta spettando. Mi scusate, posso solo immaginare la scuola emozionale che non è una volta, ma è una volta. Un'estate più distruttante. Calma! Non è nessuno dei vostri problemi. Il contesto di prezzi è passato. E così veloci, devo dire, non sarà mai lungo prima che la victoria sia prezziata come un nuovo sovranco. Non mi sembrava. Non mi sembrava di vetro. Ma come si vogliono bene. Ma non mi sembrava di vetro. Il protagonista si chiama Alphen. Questo lo ricordo. Quarovi scalati. Quarovi scalati. Non mi dicevi che non hai mai parlato di noi. Siamo la resistenza. Per le persone di Danone. Siamo in maniera dei plani di Bridei. La resistenza di Danone? Non c'era una cosa che esiste. Adesso ti puoi venire, combattere, fare qualcosa. Invece di lamentarti. Avrei più d'occhi in adesso. Cosa. La chiamata che ero. Oh, sì. È abbastanza la persona, non è? È un'attività. Zephyr deve essere interrogati la stagione in Slammer mentre parliamo. Tu hai segnato la stagione? Perché? Perché? Perchare un'attività per te, se sei così interessato. Cosa è? Ho imprimato? È quello che ti sta succedendo in Slammerla? Cosa sta succedendo? 要ci a le scendere per me. infatti domanda stupida ok quindi immagino bisogna solo andare avanti qualcosa qua in fondo no non ci sta niente ho visto qualcosa è ancora presto per darti roba quindi abbiamo una fama qua non ci fa andare perdiamo tempo un po di elettroshock tocca la tizia si fa ti doi si fa ti doi Non ti dirà una mazza? Spinosa... E' uno dei cattivi? Non ti dirà un problema, non ti diri? Non ti dirà un problema... Ma non ti dirà un problema? Ecco E' uno di? Non c'è uno C'è uno? E' uno che non m'avversi. E' uno che credo degli sc balancedi. E' uno che incontro a che c'è uno dei tuoi? La scorsi è da sola. Non ci dormire fino a tutti i tuoi prossimi? Beh, no majori non ci dormire o- Nammé Ma cosa parla? Questa 반itudine è una canna... La 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 percetà è una storia... ma si sembra un po' drome, dai? si sembra un po' drome 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 la spada più arrugginita che aveva non ci hanno dato non ci possiamo lamentare che bella cosa un'altra uscita andaggia io oh obbriaca questa di qua si sembra un po' drome 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 Ehm, non penso che te lo diciamo. Ok, comandi di bossi combattivando. Ah, quindi devi tenere premuto. Ok. Proviamo a vedere se ho capito come schivare. No, non me lo schifo. Ok. Ma non mi piace. Com'è sta cosa qua? Ok. 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 Devo capire come schivare. Quindi RT ti parte in automatico l'attacco normale? mi piace acabo di me esquivare oh, posso dire Ok, abbiamo capito come si cambia, usa lb per cambiare, avversario l'ho già fatto. Ok, o no abbiamo fatto vuoi. Ah ok. Andiamo ancora a abituarmi sto joystick. Ok, l'ho già mandato a cagare. Ok, quindi lui Lui si spara. Giustamente lui si frigge ma non se ne accorge. Combo. Quindi non vuoi seguire la stessa azione più volte sennò perde di efficacia. Bella cosa. Ehi guarda si mettono tutte e due. Oh, sono riuscito a schivarlo? Ma mi viene sempre uguale o mi viene? Non te lo posso dire. Cosa? Si ha? Infatti? Quindi non si ricorda chi è. Però nel suo nome. Non mi sento il dolore. Quindi non è come... Guarda, non mi senti il dolore? Sì. È solo un'altra cosa che non ho. No dolore. Che cosa ha il tuo nome? Devi avere uno, certo? Iron Mask. Te lo ricordi il nome? Digglielo. Un bugiardo. Ma nel vostro destra... come ho fatto raggiungerò il caso questo? Ah, ok, le scenette. Come fa... Come fa a vedere? E se c'è il raffreddore, come ti soffia il naso? Frurito? I docchi? Scusa, ma se tanto lavorano, tanto per dire che lavorano? Ah, quindi... Non so nemmeno più combattere. Giusto, Amanda. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. I don't know if you're going to die. I don't know if you're going to die. Stay where you are, dissident. E' con voi dentro. Che cavolo sono... Alla... Alla... Ah, dove c'è una spaccatura, là? Ma esce fuori una spada! E a me ricorda molto un'anime che ho visto che si chiama Otina Ragazza rivoluzionale che usciva una spada proprio così Ma come? Ah, non lo sapeva manco lì Che cos'è? È il nucleo? Non lo sapeva, non lo sapeva Ma non lo sapeva Ma non lo sapeva Ma non lo sapeva Ma non lo sapeva Aspettate, c'è il tizio con la spada Mi siete scordati di lui? Nel frattempo sta bruciando il braccio Mi sono scuagliati dentro l'armatura Ok, problema risolto La spada è sparita Torna nel suo nucleo Nucleo E il nucleo torna in lei Quindi non ce la devo manco portare appresso In tutto questo la freccia dove è andata a finire? No, sono leggermente abbrustolite Non ci sentite Ah, allora stanno a posto È uno dei miei arti Strati 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La lord che dobbiamo battere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Subito così il boss senza un minimo di coso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi racchiudono i denunci. Grazie a tutti. 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 Motto diretta. Che cos'è? Che cos'è? Grazie a tutti. è stato fissato questi si conoscono, non so pure il resto ok andiamo a sto cangiallo, vediamo se riusciamo a batterlo ah no, l'ha spinto quindi non penso che sia il caggioro del boss ok e a quanto pare ce l'hanno fatta di rapidi ecco e a quanto pare ce l'hanno fatta di rapidi ah quindi qua perdiamo un po' di tempo infatti sono così famoso ok E questo come me lo raccolgo? Ah, giusto, devo saltare. Non me lo fa saltare. Ah, non lo so. Lo scopo è ritardato. Ok, casino per la gelatina alla mela. Allora, vediamo un po'. Oh, che andò? Oh, ho visto un'altra cosa. Saliamo. Allora, ci sta sempre qualcosa. Allora, là ci sta l'uscita. Ok. Non faccio più. Uno è mezzo morto. Non mi dà niente. Niente manco qua. No. Non va. Partire di tempo. Forse ti daranno qualcosa, no? No, dai. Questo sta in bilico per buttarsi. È un gatto. No, non ci interessa. Da sto giro non vogliono i gufi. Per l'altro volevano i gatti, mi sembra. Non è kamikaze e non si può buttare. Ah, c'è un'altra salina. Qua devi dare per forza qualcosa, giovane. Ah, vedi. E taglia di carne. Vabbè. Ah, vedi. Adesso alla locanda. Perfetto. Non c'è nulla di interessante da vendermi. Acquistare manco c'è niente. Oh, vabbè. Gelatina ma manco morta. Passo un botto la gelatina. Ma almeno la faria può stare a gratis. Isola. L'enda. Amai. Ok. Non gli piacciono come siamo vestiti? No forse per la lama a la rodzinità che è. Non c'è qualcosa? Rumora Guffa Gusta A sobra Outro lado e mi devi dare delle altre arti astrali che sennò faccio sempre lo stesso ora sopra dove stai giugnetto non lo sento più no no ci sta dove stai? eccolo peccato e ciò possiamo andare cammino sopra i cristiani ma questi non stanno a parlare soltanto di lavorare che dovremmo fare che dovremmo fare ah ahahahah ahahahah oh bene non lo sappiamo a missione io non ho capito che i crimsoni erano così attivi tu sembra abbastanza felice felice? potremmo 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 no Sì, stavo pensando... Oh... C'è probabilmente un signo che Balcef... Cosa? Cioè, se Balcef pensava che i Crimeson Crows... Tu... Tutti gli altri Danans che non sono con i Crimeson Crows... Da il giorno che siamo nati... Se non like il status quo, allora dovrebbero combattere. Inoltre... Lo vedo diverso... Ma è solo io... Ma guarda... Sherlock Holmes... Bene... Ma è manco morto... Potete fare cosa? Ecco l'acqua da non si può vedere... Un... La corsa? Se avessi capire... L'ho messo là per certi che Renan... Non... Quindi, anche se c'era che era morto... L'ho veramente venuto perla... Ehm... Strazziano questa cosa? Credo che pensi che sia stupido di essere morto... No... Sicuramente rischia la sua vita... per una cosa che credeva... Però... E' importante per noi... Per pensare che non è stata morto... E se non altro... Questo proverà che i Renan... Poi potranno farci la sua wille... Adesso non sono infallibili perchè non hanno trovato una pentola. Ok, direi che abbiamo concluso la nostra prima missione. Alla prossima. 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 Sì. Allora. Alla e io. Adesso ne abbiamo forcibito di assistino. Allora. la prossima. Allora. Ogni? Il confronto. Si sblocca. Un'azione? Ha compratito? Accompratito? vabbè questi sono mille mamma cos'è? se muoio arriva tanto voglio finire questo altri me li conservo perché non so grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie. P2, consumo già tanto 2, massimo 3. No, visto che ci siamo... Togliamo questo equipaggiamento da coniglio, che è orribile. No, da vedere. Dotazioni. Oh, madonna mia. Io non l'ho ancora visto senza niente. No, ancora non l'ho visto senza niente. Massimo ci cambia l'armatura. Ok. Grazie. 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 Sono fissati con ste code e sti conini. Agua Mi piace questo Ok, quindi ora che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo visitare le rovine Ok, grazie Ok, grazie Grazie a tutti 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 E proviamo il nostro primo piatto Oh, è un emblema Grazie a tutti 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 Grazie a tutti